Le complicazioni cominciarono il secondo giorno di vita del pulcino. Zorba dovete intervenire drasticamente per evitare che l'amico di famiglia lo scoprisse. Appena lo sentì aprire la porta, rovesciò un vaso da fiori vuoto sul piccolo e ci si sedette sopra. Per fortuna, l'umano non uscì sul balcone e dalla cucina non ponteva a sentire le strida di protesta. L'amico, come sempre, pulì la cassetta, cambiò la lettiera, aprì la scatoletta di cibo e prima di andarsene si affacciò alla porta del balcone. Spero tu non sia malato, Zorba, è la prima volta che non arrivi di corsa appena ti apro il barattolo. Ma che ci fai seduto su quel vaso? Chiunque direbbe che stai nascondendo qualcosa. Beh, a domani, pazzo di un gatto. E se gli fosse venuto in mente di guardare sotto al vaso, al solo pensiero, sentì che se la faceva sotto e dovete correre alla cassetta. Lì, con la coda di vendritta, provò un gran sollievo. E pensò alle parole dell'umano, pazzo di un gatto. Lo aveva chiamato così, pazzo di un gatto. Forse aveva ragione, perché la cosa più pratica sarebbe stata lasciargli vedere il piccolo. L'amico, allora, avrebbe pensato che aveva intenzione di mangiarlo. E se lo sarebbe portato via? Per prendersene pura, finché non fosse cresciuto. Ma lui lo aveva nascosto sotto un vaso. Era pazzo? No, niente affatto. Zorba seguiva rigorosamente il codice d'onore dei gatti del porto. Aveva promesso all'agonizzante gabbiana che avrebbe insegnato a volare al pulcino e lo avrebbe fatto. Non sapeva come, ma lo avrebbe fatto. Zorba stava ricoprendo con curro i suoi escrementi quando le stride allarmate del piccolo richiamarono sul balcone. Quello che vide gli fece gelare il sangue nelle vene. I due gatti poco di buono erano sdraiati davanti al pulcino, muovevano eccitati le code e uno di loro lo teneva fermo con le grinfie sopra la coda. Per fortuna gli voltavano le spalle e non lo vidono arrivare. Zorba tese tutti i muscoli del corpo. Chi l'avrebbe mai detto, amico, che avremmo trovato una colazione così buona e piccolo, ma l'aria è saporita, mi agolò uno. Mamma, aiuto! Strideva il pulcino. La cosa che più mi piace degli uccelli sono le ali, queste le ha piccole. Ma le cosce sembrano polposette, notò l'altro. Zorba saltò. Mentre era in aria sfoderò tutti e dieci gli artigli dalle zampe anteriori e quando atterrò in mezzo ai due furfanti sbatté le loro teste per terra. Cercarono di rialzarsi, ma non ci riuscirono perché entrambi avevano un orecchio trapassato da un artiglio. Mamma, mi volevano mangiare! Strideva il piccolo. Mangiarsi il suo figlio? No, signora, niente affatto. Mi agolò uno con la testa schiacciata per terra. Siamo vegetariani, signora, vegetariani stretti, assicurò l'altro. Non sono una signora, idioti, mi agolò Zorba, tirandoli per le orecchie in modo che potessero vederlo. Quando lo riconobbero, ai due poco di buono si arizzarono i peli. Hai un figlio molto bello, amico, diventerà un gran gatto, sussurrò il primo. Questo è poco ma sicuro, è un gatto splendido, affermò l'altro. Non è un gatto, è un piccolo di gabbiano, stupidi, spiegò Zorba. È quello che dico sempre al mio amico. Bisogna avere dei figli gabbiani, vero amico? Dichiarò il primo. Zorba decise di farla finita con quella farsa, ma quei due cretini si sarebbero portati via un ricordo delle sue grinfie. Con un movimento energico ritrasse le zampe anteriori e i suoi artigli lacerarono le orecchie dei due vigliacchi. Scapparono di corsa miagolando dal dolore. Ha una mamma molto coraggiosa, stridette il piccolo. Zorba capì che il balcone non era un posto sicuro e non poteva farla entrare nell'appartamento perché il pulcino avrebbe sporcato tutto e sarebbe stato scoperto dall'amico di famiglia. Doveva trovargli un posto sicuro. Vieni, andiamo a fare una passeggiata, miagolo Zorba, prima di prenderlo delicatamente tra i denti.